Salus a 17 febbraio 2012. Con fede sufficiente non vi è nulla, che non possiate fare, e ancora non avete compreso quanto siete potenti. Voi create di continuo, anche se non ve ne rendete conto. Attraverso numerose esistenze, siete stati voi a creare quel che sperimentate adesso e, probabilmente, questo vi sorprende. Ricordatevi che spesso avete mancato di esercitare il vostro potere per impedire l'avanzata degli oscuri. Pur essendo vero, che le loro azioni sono state alquanto tortuose, i loro obiettivi hanno trovato ben poca resistenza. Non di meno, in tempi più recenti, avete iniziato a capire quel che stava accadendo attorno a voi. Anche senza necessariamente comprendere cosa intendevate conseguire concentrandovi su un risultato diverso, avete creato un'energia per il cambiamento, che è immensamente cresciuta, aprendo una potente linea temporale verso l'ascensione. Adesso vedete più chiaramente quel che dovete fare per coronare con successo la fine di questo ciclo. Guardatevi attorno, carissimi, e noterete i segni che sono sotto gli occhi di tutti di come, dal caos apparente, i nuovi inizi stiano emergendo chiaramente. State ricevendo corrette informazioni riguardanti un piano mondiale, sostenuto da molti paesi, inteso a rovesciare gli illuminati e a presentare al mondo un nuovo sistema finanziario. Tutto ciò sopprimerà la struttura illegale e i metodi, che hanno creato una società oppressa dai debiti e a rischio di collasso. A questo punto, vi si offre proprio l'opportunità di iniziare detto piano, che eliminerà il pesante fardello, che molti di voi sopportano e le difficoltà, che ne derivano. Ancor più importante, questo consentirà di ridistribuire la ricchezza, molta della quale è acquisita con metodi criminali. Parimenti, siete stati deliberatamente tenuti nell'indigenza per meglio controllarvi. Parimenti, siete stati tenuti all'oscuro della vostra condizione e della vostra storia e, per questo motivo, riceverete informazioni complete sul vostro passato e sullo scopo dell'esistenza terrestre. La vostra esistenza può essere del tutto miserevole e priva delle cose gradevoli di cui tanti altri godono, ma ricordatevi che questo fa parte delle esperienze, che avete intrapreso. In altre epoche, siete vissuti nel lusso e foste influenti ma, per equilibrare, altre esistenze sono state vissute a livelli diversi. Noi udiamo gridare perché mai sono qui, come se non ci fosse alcuno scopo apparente, mentre quello che state facendo è attraversare una serie di esperienze intese a innalzare il vostro livello di coscienza. Lo scopo ultimo è di prepararvi a riacquistare la piena consapevolezza e a scendere, affinché possiate finalmente uscire dalla dualità, quale la conoscete. Alcuni si chiedono cosa siano stati nelle precedenti esistenze, ma non preoccupatevi gran che di questo. A un certo punto ne avrete un ricordo completo, ma quel che conta è cosa avete imparato da tali esperienze, mentre i dettagli sono irrilevanti. Per quanto vi riguarda, quel che conta è l'oggi, perché siete la somma totale di tutte le vostre esperienze. Per molti di voi è la prova, che siete sufficientemente evoluti da comprendere la natura dell'amore incondizionato, e questo è un risultato meraviglioso. Ora più che mai occorre che la gente si unisca e usi il potere collettivo per progredire, agevolando la manifestazione dei cambiamenti necessari. Parlatene tra voi, perché molti si chiedono cosa sta succedendo, senza comprenderne il perché. La verità sarà per loro sconvolgente, così come la paura, che probabilmente ne deriverà, è qui che potete intervenire, rassicurando che tutto questo serve a preparare un futuro, che si rivelerà migliore. Poiché, in sostanza, in ogni aspetto dell'esistenza ci saranno cambiamenti positivi, tali mutamenti sono ovviamente auspicabili. Noi della Federazione Galattica partecipiamo a quanto sta accadendo per garantirne il compimento, e ci è stato concesso di aiutarvi, purché inconformita ai vostri desideri. Comunque sia, in senso lato, siete di fronte al piano divino per l'ascensione dell'universo. Dopo aver percorso un cammino tanto lungo e in procinto di raccoglierne i frutti, adesso è necessario tenere gli occhi fissi sul traguardo. Non lasciatevi distrarre dagli ultimi tentativi degli oscuri di attirare la vostra attenzione sulla mole crescente di disinformazione che circola. Naturalmente, fin quando non potranno più influenzare i media e saranno obbligati a cederne il controllo, essi sperano di creare confusione e dubbi. Ormai, chi di voi appartiene alla luce non dovrebbe avere alcun problema nell'individuare la verità in mezzo alle false informazioni. In linea di massima, potete fidarvi che, quando avete l'impressione, che qualcosa suona falsa, lo è davvero. Con il tempo, tutto sarà chiarito e quando avremo con voi un aperto contatto, le spiegazioni saranno all'ordine del giorno. Che momenti meravigliosi saranno quelli in cui sarete liberati delle energie inferiori. Molte anime coraggiose si sono fatte avanti per rivelarvi la verità, pertanto, riconoscetele e seguitele, senza mai abbandonarle. Di recente, moltissime informazioni sono filtrate senza che gli oscuri potessero tamponare le falle. Di conseguenza, tenete gli occhi aperti e imparate da fonti sicure, man mano, che i segreti sono svelati ed emerge la verità. Presto i media saranno liberi di informare come sarebbe stato loro dovere fare, se non fossero stati rigidamente controllati. Saranno del tutto liberi non appena gli illuminati saranno rimossi, e questo sta diventando sempre più possibile a ogni giorno che passa. Le forze segrete, che lavorano per la luce non sono certo pigre e ora stanno accerchiando le sedi del potere. Gli oscuri sanno di non poterle mantenere e che ne saranno scacciati tutto ciò richiede tempo, ma con il nostro aiuto, tutto finirà bene. Il collasso del vecchio sistema non è un bello spettacolo né una piacevole esperienza, ma deve avvenire. Nel miglior modo possibile, i cambiamenti dovranno svolgersi in modo rapido e preciso, ma sorgeranno difficoltà perché qualcuno si opporrà a quanto facciamo. Abbiamo una missione da compiere iniziata secoli fa, e non ne saremo distolti proprio in fase finale. La parte più felice sarà quando potremo incontrarvi e compiere insieme l'ultima parte del tragitto, come un'unica famiglia di luce. La vostra vita dura cessere e, a quel punto, sarete pienamente consapevoli di voi stessi, dei vostri obiettivi e del vostro posto nella galassia. Al momento, siete solo l'ombra del vostro vero essere e avete soltanto una minima idea di quel che significa far parte dell'unità di tutto ciò che è. Si tratta di beatitudine e felicità, che non potete neanche immaginare, ma che sono ormai vicine e vi attendono. Io sono il siriano Salusa e attendo impaziente i cambiamenti, che ci consentiranno un maggior contatto con voi. Rendiamo onore a voi tutti per la vostra grande determinazione. Grazie, Salusa. Mike Quincy Traduzione Costanza 2003